Coronavirus in campagna 3.166 nuovi casi, 34 morti e 690 guariti. Covid al Sampio, altri due decessi, 92 positivi ricoverati. De Ieso, dallo screening di 100 tamponi, 7 positivi. Benevento Calcio, Inzaghi cerca una nuova identità per la sua squadra. Sono 3.166 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in campagna. Di questi, 351 sono sintomatici e 2.815 sono asintomatici. Il totale dei positivi in campagna dall'inizio dell'emergenza è di circa 100.000. Sono 34 nuovi decessi legati al coronavirus. Sono invece 690 i nuovi guariti. L'unità di crisi della regione campagna comunica che nella settimana del 2-8 novembre la percentuale di occupazione dei posti di terapia intensiva su scala regionale è del 27%. L'indicatore di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, si legge in una nota, è dato dal rapporto tra il tasso giornaliero di pazienti covid ricoverati nel giorno indice sul numero di posti letto totali di terapia intensiva attivi nel giorno indice moltiplicando per 100. Altri due decessi all'ospedale San Pio di Benevento. Sono otto le persone che hanno perso la vita da inizio settimana. Si tratta di una 65enne di Cepaloni e di una 74enne di Telese Terme ricoverati da diversi giorni nel principale ospedale cittadino. Dall'inizio della seconda emergenza, che risale al 1 agosto, il covid ha fatto registrare 27 decessi di persone residenti nel Sannio. Sono 110 i nuovi casi positivi nel Sannio su 426 test effettuati, 1.372 dall'inizio della seconda fase emergenziale, 7 sono sintomatici e 103 asintomatici, 11 guariti ed un deceduto. Sottoporrò al Comitato per la Sicurezza una serie di misure, così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che lancia un nuovo messaggio ai suoi concittadini. In questa seconda ondata, che tra poco vedrà la miscela esplosiva di covid e di influenza stagionale, sembra quasi che la salute conti meno che in primavera. Intanto gli ospedali si sono riempiti, anche i nostri, e la curva epidemica non scende. La nostra città e la nostra provincia, prosegue Mastella, sono in una condizione di gran lunga superiore a quella della primavera. Qualcuno immagina che, essendo Benevento in zona gialla, si possa fare quello che normalmente accade nei periodi normali. Bisogna ricoverare, chi pensa questo? Il milione di casi in Italia dovrebbe invece farci pensare il vero lockdown è personale oppure non ci sarà. Il controllo deve essere autocontrollo. Ancora molti senza mascherine, negozi dove non si misura la temperatura, non è possibile e non dovrà essere possibile. La critica situazione dei contagi ha indotto il sindaco di Erola, Michele Napoletano, ad emanare un'ordinanza con nuove limitazioni per dieci giorni. L'ordinanza è in vigore da giovedì 12 novembre fino a domenica 22 e prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti e il divieto di accesso per i non residenti e domiciliati, salve le motivazioni di salute, lavoro e necessità, la sospensione dalle 15 delle attività afferenti servizi di ristorazione e anche con modalità d'asporto, consentite esclusivamente la consegna a domicilio. Tra queste ed altre cose, l'ordinanza prevede anche la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 23 novembre. Anche le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, fa sapere che sulla linea di rigore sempre seguita dalla regione solleciterà nelle prossime ore e nei prossimi giorni i ministeri dell'interno e della salute ad assumere provvedimenti rigorosi per il rispetto delle regole e per il contrasto all'epidemia. Ribadisce che non sono assolutamente tollerabili immagini come quelle del lungomare di Napoli o di strade e quartieri abbandonati a se stessi, nei quali si continuano a violare le norme senza che nessuno di quelli che hanno il dovere di impedirlo muova un dito. Non è tollerabile che il lavoro straordinario fatto sul piano sanitario ospedaliero a tutela della vita delle persone sia inficiato da un contesto ambientale che si muove nel segno dell'irresponsabilità istituzionale e comportamentale. L'Asia di Benevento, di concerto con il Comune, comunica ai cittadini che è sempre operativo il servizio di raccolta rifiuti per coloro che risultano positivi al Covid-19 o che sono in quarantena obbligatori o fiduciaria presso le proprie abitazioni. A questi ultimi, dopo una segnalazione all'azienda da parte del Comune, saranno distribuite buste e contenitori speciali. I rifiuti andranno conferiti due volte alla settimana, lunedì e giovedì, dalle 12 alle 13 e andranno esposti a piedi portone, sul suolo pubblico e non insieme ai rifiuti degli altri utenti. Per tutte le informazioni e i dettagli si può chiamare il numero gratuito 819 49 19. De circa 100 tamponi naso faringei effettuati domenica mattina abbiamo avuto notizia di 7 positività di cittadini che abbiamo messo già in quarantena obbligatoria. Lo scrive il sindaco di Pagovegliano, Mauro De Jeso. Abbiamo circoscritto e monitorato le attività e contatti avuti dei soggetti interessati e ancora lo stiamo facendo con il chiaro scopo di tutelare le persone in un clima di piena e reciproca collaborazione. Tra la rotonda di Via Rivellini e Via Santa Colomba a Benevento, un maestoso albero di luci è stato allestito ed illuminato a sorpresa in occasione delle feste natalizie. Un'idea dell'azienda Erga Green che cura anche la manutenzione del manto erboso dello stadio Ciro Vigorito e delle 5 aree destinate a verde che si trovano nei pressi della struttura sportiva, una delle quali ora sarà affidata al Panathlon preseduto dalla dottoressa Danila Vitale. Un monito di speranza e di gioia per esorcizzare il difficile momento che stiamo vivendo caratterizzato dall'emergenza coronavirus. Un 24enne si è tolto la vita con un colpo di fucile in una proprietà di famiglia nelle campagne di Pietrelcina senza lasciare nessun biglietto o messaggio che lasciasse comprendere ai familiari il motivo della tragica decisione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Il Tar Campania ha respinto due nuovi ricorsi proposti per la sospensione dell'ordinanza 89 della Presidente della Regione con la quale si sospende l'attività didattica in presenza in Campania fino al 14 novembre. Il Tar aveva già deciso in tal senso in due occasioni il 19 e il 9 novembre nel pomeriggio inoltre ricorda una nota della Regione il Consiglio di Stato ha confermato le pronunce del Tar Campano pur chiedendo alla Regione il deposito di un'ulteriore documentazione istruttoria. Resta pertanto confermata la didattica a distanza così come stabilito dall'ordinanza regionale. Nuova seduta del Consiglio Comunale da remoto con la modalità Question Time per la trattazione delle interrogazioni riguardanti l'assunzione di personale l'esecuzione del progetto di ripulitura monumento Manfredi di Svevia Casa Albergo San Pasquale lo stato di attuazione della fase 2RDC la promozione Serie A festoni pali pubblica illuminazione i lavori di manutenzione con Trada Torri Alfieri il servizio pubblico scolastico la rassegna Città Spettacolo la sospensione Utilizzo Acqua Rione Libertà e la problematica di Sesto e Osla. Mattinata di lavoro per il benedento di Mister Inzaghi sul rettangolo verde dell'antistadio Carmelo Imbriani lo staff tecnico ha sottoposto i giallorossi ad esercitazioni di attivazione sul campo circuito di forza, cambi di direzione e partita finale la preparazione prosegue in giornata si replica con una sessione mattutina è tutto con questa notizia vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone